Quanto schifo! Comunque volevo appunto avvisarvi che mi trovi in un nuovo clan, si chiama Absolute Team, è un clan livello 5 che fa praticamente soltanto war, ha fatto anche una piccola scalata ultimamente, vi faccio i miei complimenti perché sebbene fosse una scalata appunto diciamo fatta tra virgolette a caso proprio per aspettare di fare altre war, sono arrivati tra i primi 100 in Italia quindi tanto di cappello. Il tag lo vedete qui sopra in pensione, hashtag P8GOQUQG e niente per cercarlo meglio, volevo precisare che potete entrare sia in questo clan che nella loro accademia che si chiama Pandora, troverete tutto nelle informazioni del clan o comunque qui all'interno del video se rispettate i certi requisiti. Allora, i requisiti sono circa 300 stelle in war che vedete sul vostro profilo, TH9 maxati generalmente con il muro al minimo al 9 e la somma dei livelli degli eroi deve essere 30, quindi in poche parole potete averne 1 al 10, 1 al 20 eccetera, la somma deve essere almeno 30 per i TH9, per i TH10 deve essere 40 più. Naturalmente è richiesta una grandissima serietà durante la war, la capacità di ascoltare e di appunto saper ricevere consigli ma soprattutto di saper attaccare, essere forti. Se vi state chiedendo perché sono entrato in questo clan me l'ha chiesto gentilmente un membro che ringrazio e saluto, si chiama Riccardo e me l'ha chiesto proprio per questo motivo, per sponsorizzare. Ragazzi cercano gente forte di cui si possa fidare e che sia appunto abile all'interno delle war. Io naturalmente non sono questo genere di persona troppo power, non ho neanche i requisiti ma loro me l'han chiesto proprio per entrare e sia per sponsorizzare che comunque a loro volta darmi una mano e a migliorare, ad imparare nuove tecniche. Spero di riuscire a portarvi sul canale queste tecniche, spero appunto in questo periodo in cui rimarrò in questo clan di apprendere nuove strategie di attacco, nuovi appunto schemi, nuove disposizioni, nuove tecniche per riuscire a portarvi contenuti non solo di qualità dal punto di vista dell'intrattenimento ma anche di qualità dal punto di vista appunto delle skills, della capacità all'interno del gioco. Il video termina qua, fate richiesta se rispettate i requisiti ma soprattutto se siete abili all'interno delle war perché c'è gente che potrebbe essere fortissima di livello eccetera ma che probabilmente non sa attaccare. Naturalmente saranno loro a scegliere e ad accettarvi, io non ho potere quindi non chiedete a me di accettarvi, io sono un semplice plebeo all'interno di questo clan, molto ma molto forte. E' da ora a fare tutto, saluto tutti quelli del clan, in particolare appunto il mio amico che mi sta aiutando moltissimo e ci vediamo nel prossimo video, bella!